Iniziamo ad ampliare i contenuti del canale. Con questo video incontriamo un po' la nostra compagnia e potete farvi un'idea di come operiamo. Si tratta di un semplice backstage dell'ultimo corto realizzato che uscirà a breve e iniziate a prendere confidenza con alcune facce che presto mi accompagneranno in un format nuovo che stiamo pensando. Pronto? Odore? Azione. Ti prego Gloria ti aiuterò io a creare questa società se proprio necessario. Dice su serio? Con le tue origini? Sarà come l'accoppiamento delle mantidi religiose. Sei molto carino ma non credo che potrebbe funzionare. Quindi confermi che sei un misogeno. Stai che fai? Questo è da quando la motoria e lui te la motoria. Qui potete allo modo anche stare un po', quindi ti avvicinare. Ok, niente. Prendiamo da quando Tino se ne va in là e Tino se ne va in là quando è insulti, compromette tanta bellezza, ok? Comunque anche se l'altra parte è andata benissimo Tino, ok? Hai fatto bene così. Sto che io c'è, qui ti vediamo e chiami Tino. Tornino un attimo ma non riesco a prenderci. Aspetta un attimo che non inizia la battuta. Compromettete tanta bellezza e inizia la segura e vai. Grazie. 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 Avremo sempre Parigi. mi lascia andare, vi farà un guaio Benji Benji mi metta giù, vi farà un guaio e vediamo perché vorrei voi su due colori separati e voi in senso tu e Richard a segnare questa incolmabile separazione La tua scenata mi ha tolto i pochi dubbi che aveva Ti prego Gloria ti aiuterò io a creare questa società se proprio necessario Deci su serio? Come il cornuto? Bellissimo Esattamente Per il resto Per il resto Quindi sono una larga e poi? E cosa fa? Lui si muove l'u... Per il resto Questo è per te Grazie Mi si è passato proprio da... E' più buon disco Più buon disco, più... E' più buon disco 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 Adol 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 Adol, accogli le tue cose Non lasciarle così in giro Adol 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 Grazie a tutti.